E siamo al calcio con due giornate d'anticipo, la Juventus è campione d'Italia. Nono scudetto consecutivo per i bianconeri, festeggiate a casa, esortato il club sui social per scongiurare il rischio di assembramenti in città. I servizi di Claudio Valeri e di Andrea Tinari. I bianconeri sono dieci e dalla Juve, come lui, nessuno mai. Sempre forza Juve signore, fino alla fine. È il primo scudetto post-Covid, ma anche quello degli stadi senza pubblico e del Covid porta i segni anche per i festeggiamenti, praticamente assenti in città. Caroselli, delle auto ridotte e in piazza San Carlo, la tradizionale piazza dei festeggiamenti, nessuna bancarella nei tradizionali venditori abusivi. L'emergenza Covid ha messo in sordina anche i festeggiamenti. Senza bandiera, ci aspettavamo più confusione, più partecipazione, ma niente. Poca gente, perché magari la storia del Covid, però sempre meglio pochi ma buoni, no? Alcuni tifosi hanno seguito la partita dai pub o dai locali con il loro dehors, ma senza un'atmosfera di festa e promiscuità. Una buona notizia in fondo per le preoccupazioni sui timori dei contagi da assembramento. Un centinaio di tifosi che hanno festeggiato fuori dallo stadio con le bandiere hanno risposto alla richiesta della stessa società bianconera che aveva twittato festeggiate a casa. Dalla prefettura nessun divieto e quindi il segnale che il senso di responsabilità dei torinesi ieri sera ha anticipato le regole con un comportamento virtuoso che è venuto prima delle multe viste in tante altre città d'Italia. Bax Banni compie 80 anni. Festeggiamenti. Festeggiamenti.